Un Defile d'Amur, una sfilata con un intento benefico. Cosa c'è dietro questo evento, dove e quando sarà? E allora, Defile d'Amur è un evento creato dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole. Si svolgerà domenica 20 ottobre al San Paolo Palace Hotel alle 18.30. Siamo alla decima edizione quest'anno. Più che un Defile è uno show, perché al suo interno più di 100 persone andranno in passerella alternandosi i momenti di moda, infatti sfileranno le collezioni autun'inverno di prestigiose boutique palermitane, spettacolo e solidarietà. Il fil rouge della manifestazione quest'anno sarà composto da tre paroline, diversità, equità ed inclusione. Durante la serata saranno rappresentate al meglio. Dieci anni, un bilancio? Bilancio assolutamente positivo. Tanta fatica dietro, ma le soddisfazioni sono tante, perché la causa è nobile. Quindi siamo sempre contenti di metterci in gioco per arrivare al risultato. L'impegno del Rotary per scopi benefici, uno dei tanti, e questo previsto per domenica. Sì, il Rotary è sempre impegnato nel fare service per dare quello che può agli altri. Sicuramente il defile d'amore per il nostro club è un fiore all'occhiello. Già da dieci anni ci spendiamo, insieme a tanti volontari, a sponsor che ci aiutano per la lotta contro la poliomelite. Anche quest'anno ce la faremo ad essere più forti di questo virus che purtroppo sta iniziando ad alzare nuovamente la testa a causa delle guerre che ci sono in giro nel mondo. Ecco, un virus che sembra una parola lontana, ma in realtà purtroppo è ancora attuale. Eh sì, purtroppo il Covid negli ultimi anni ci ha insegnato che non è facile debellare un virus. La poliomelite è uno di quei virus con la quale lottiamo da anni. Siamo arrivati tantissimo vicini al traguardo e quasi lo sfioriamo. Ogni volta sembra che ci sfuga di mano, ma noi continueremo fino a quando non vinceremo noi questa battaglia.